Benvenuti ragazzi e bentornati in questo nostro video, siamo tornati su Valentino Rossi The Game Ragazzi guardate qui cosa ci è arrivato, ovviamente abbiamo tutti i team di Moto2 ma anche di MotoGP Abbiamo Ducati, Yamaha e Honda Ditemi se volete che vado direttamente in MotoGP alla prossima chiamata o se rimane dopo questa gara ancora l'offerta Perché oggi andiamo in Aerez, in Spagna, ci vediamo direttamente in gara Eccoci qua in gara raga, seconda posizione a 4 millesimi da Sam Laws in prima C'è duello anche in griglia, raga appagliati, a quanto pare ci sarà una gara, bella bella equilibrata Terza posizione ovviamente per Johan Zarco, sempre lì, pronto a rosicchiare punti nel caso noi sbagliassimo Si va, gas in mano Semmaforo rosso Prima, dentro E andiamo Andiamo, super partenza Proviamo subito A dare un segnale a Sam Laws e passarlo nella prima staccata Ce la facciamo, andiamo di accomandare il gruppone Però ho guardato dietro, ho staccato malissimo Troverà di nuovo Sam Laws ma non ha lo spazio, non ha lo spazio Perché abbiamo chiuso benissimo Mamma mia, come stiamo girando ragazzi Come stiamo a girare raga Attenzione, andiamo un attimo a larghi ma è consentito È consentito, abbiamo preso già 8 decimi Noi nel primo settore E anche un po' nel secondo siamo molto più veloci di loro Ma nel terzo settore perdiamo tantissimo Oh, ho guardato dietro, cazzo Staccatone Larghi, larghi Chiudiamo bene all'interno Uh, ci hanno recuperato un po' Ci hanno un po' recuperato Ci hanno un po' recuperato Andi, uh, largo Troppo gas in fretta Dobbiamo amministrare un po' il vantaggio Gas, gas, gas Non così largo Erroracci Errori su errori Ok E andiamo, andiamo Olè Olè Fatta che Oh Sembravo se si è alzato un attimo Presto Larghissima Dobbiamo aspettare Acceleriamo Acceleriamo Sono lontani Attenzione c'è un duello tra Zarko Oh, Svolger Mamma mia Mega duelloni E noi Prendiamo vantaggio Ce ne andiamo Abbiamo sbagliato il punto di frenata Ma viene sempre un attimo vantaggio Oh Larghissimo Stringiamo Per chiudere la porta Ma un po' ci hanno ripreso Siamo troppo distratti Troppo distratti Troppo distratti Sveglia Sveglia Attenzione a Zarko adesso Prova la staccata Attenzione Lowe Come si è inserito Ma noi Non rimaniamo così Lowe Non hai Tutta sta pacchia È da fare Noi Noi Ti sverniciamo A noi ci hanno chiamato Ne approfitta Ioan Per andare a rosicchiarci dei punti Come hai detto all'inizio In griglia di partenza Però qui come l'abbiamo ripreso a Zarko Con una staccata super L'abbiamo rosicchiato tutto il vantaggio che ha preso Mi siamo attaccati Appaiati Vediamo qui all'interno La penultima curva Attenzione sul Uh sul cordolo Rischia tantissimo Ultima curva Per poi metterci nell'ultimo giro Andiamo Abbiamo preso un pelino Abbiamo preso un pelino E l'Ouse è dietro Nel traffico Siamo io Un pelino dietro Zarko E poi Un po' distaccati gli altri Qui la gomma non c'è più Oh Zarko Come si è infilato Ioan Proviamo No Duello Duello Non rimaniamo immobili Rispondiamo subito E l'abbiamo ridata ma rimane Primo Zarko Che risponde al contraattacco nostro Attenzione siamo usciti un attimino larghi E lui ci ha preso qualche metro Ultimo giro di panico Paura Attenzioni Attenzione Prendiamogli la scia Prendiamogli la scia Prendiamogli la scia Siamo io e Zarko L'Ouse nel traffico Dobbiamo approfittarne Attenzione Qui ci proviamo all'interno Ma andiamo stra larghi Stavolta troppo larghi Siamo andati Proprio tanto 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 Mega duellone Con Ioan Zarko Mega duellone Possiamo ancora recuperarlo Non è finita L'abbiamo ripreso in questa staccata L'abbiamo ripreso in questa staccata Però siamo nel settore dove non andiamo Dove non andiamo un granché Andiamo Andiamo Però siamo lì Siamo attaccati Siamo vicini Tutti vicini L'abbiamo recuperato anche qua Ce l'abbiamo Ce l'abbiamo Siamo nelle ultime due curve Mi sembra Adesso ultime due Adesso ultime due Ultima curve Proviamo all'esterno Siamo davanti Attenzione Potrebbe ribattere Zarko Siamo davanti noi però Siamo davanti noi Chiudiamo l'interno Benissimo Ci prova Oh Oh Zarko Si era appoggiato Ma andiamo a trionfare noi Anche a Rez Tre vittorie consecutive Mettiamo Un segnale Già nel mondiale di Moto2 Il mio giro l'ha fatto Zarko Infatti si è visto Ha fatto un giro Paola Sam Lowes comunque rimane terzo Attaccato Più 14 Da Sam Lowes Più 22 Da Johan Zarko Stiamo già andando avanti Però non dobbiamo perderci Come l'anno scorso Che qui è già più difficile Comunque ragazzi Concordo con il video Pollicione su Commentate Condividete E iscrivetevi Se non avete ancora fatto Ci vediamo prestissimo Con un nuovo video E mi raccomando sotto nei commenti Ditemi Come ho già detto prima Se volete che vado già in MotoGP Se no ci godiamo la Moto2 Che è già fantastica Bella